40 detenuti che incontrano e incantano il pubblico grazie alla musica. È successo a Bologna, presso la casa circondariale Rocco d'Amato, eccezionalmente aperta al pubblico per il concerto annuale del Coro Papagheno, uno dei progetti di musicoterapia di Mozart XIV, l'associazione di Alessandra Abbado. Dopo le esibizioni in Senato e in Vaticano del 2016, il Coro Papagheno, diretto dal maestro Michele Napolitano, si è presentato al pubblico ancora più numeroso, con un repertorio internazionale trasversale che comprende due nuovi brani, il canto tradizionale africano Sia Hamba e quello bolognese Venendo giù dai monti. Un viaggio tra sacro e profano, colto e popolare, che dalla monodia medievale al Rinascimento arriva, passando per Mozart e l'Ottocento, alle sonorità dei canti tradizionali al repertorio afroamericano. Telcino Pag. Seure Telcino Grazie a tutti.